Qui sotto Io vorrei un applauso a Gio per questa nulla Ma regà Scusate eh Scusate in chat Spammate regà Spammate Gio the best Spammate il video Eh vabbè non fa niente Quanto mi manca questa arma di merda regà 13 headshot Colga No colga Oltre a me penso Secondo il più forte Ma è un fatto pure perché lui ha Tanta esperienza Do it Just Do it Yes you can Just do it Ma vabbè cosa ho fatto Scusate regà Mi son zittito non potete capire quello che ho fatto Che fai Stavo Si è andato di sotto Mi sono fatti il war run al limite della morte E sono tornato su Oddio Si è sentito Si è sentito proprio quell'attimo di concentrazione Porca draio Ho stretto il culo No 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 Guarda guarda Non c'entrava manco uno spillo Regà ma se gli piamo a e facciamo come l'altra volta Perché Perché Ne è suonato uno nel centro No ricoglione Lascia lì c No no la vite da merdissima Ma non la prendo non c'è Dai giù aspetta le pusho Chi cazzo è Oddio sei tu che hai sparato Che paura No 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 Non pusho No 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 Fagli prendela Vai vai No non prende BB Prendila quando arrivi a 40 tipo I studenti di gelo Ah no ma di sei Oh fuck Uno da warride a sinistra Ho invaso regà Vabbè non devi scialla Ho invaso Mi so dove scappa Oddio Oddio mazio soprattutto mazio sopra b non scappare ci fosse ancora gioco ma zio c'è prova starci non è facile levate levate che devo farla di lato fatto ma solo lo carica io vado giù ma no stiamo tutti qua rega hanno cambiato spawn così si infatti sono andato vedete che siamo in quattro è tutta una questione di quanto è subito ok non vedo nessuno aiuto rega dobbiamo andare a prendere b no non è sopra oddio e i dance tiralo sì cazzo rimango qua tutto in cazzo guarda guarda da destra fermo fermo si fa mettere cose aspetta sono morto baffanculo 140 punti da lei no devo scappare sta buscandolo qua sopra non capisco se è finito il coso è la mia impressione si erano appena battuto vai madonna macchina dei iter io c'ho due partite che non viviamo eh ma è coda fratello ajax oddio che mi ha salvato oddio ti amo oddio ti amo sono morto ooooh abbracciami 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 da dietro rega guarda dietro beh me ne so accorto tu l'ammazzio quello fermo non è vero non è fermo ma non è fermo non è fermo è uno senza la vita ammazzato facciamo tutti il pompa so 19-0 let's roba da pagher io rimango qua chiamate qualcosa a presto 75 punti devo fare una kill mi dovete dire dove sono i nemici guardate in basso oh mio dio raga chi ne sta uno fermo tirato later prendiamo a noi raga l'ammazzio quello che viene in c qua niente l'ammazzato ok ok prendilo c'è quello fermo che vorrei uccide ma c'è paura vai 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 avvanzati risuola ok abbiamo troppo vado in palazzo vado in palazzo io se riesco a ucciderli gli sono dietro uno l'ho preso torno indietro ci abbiamo un altro visato l'amorismo mi ha un altro conti mancano 100 punti mancano eh no eh no eh c'ho l'avvio c'è poi però capisco che fa scrive no raga no visate raga visate no non lo chiamamo ok vabbè va bene va bene ok è suona lasciamo le messe a please 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 eeeh ff*** Tutte e due Immazzalo di Sto brutale Fammi uccidere a me Spostati 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 che l'ammazzo su Mamma mia Lo vado a pia Lo vado a pia io Oddio l'ho preso Fermo 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 Dov'è? Dov'è? Sta in fondo? No l'ha ammazzato Panico Sì sì lo stanno andando a prendere da dietro Guarda c'ho pure che si giri in questo momento Stiamo tutti scordando Stanno buttando giù lei da regà L'ultimo quello fermo l'ammazzo Mo si gira e mi ammazza Sì Sì Vieni qui Merda 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 Ok vai Ma che cazzo faccio? Hai visto da fatto C'è Ci ha culminato Ci ha violentato le nonne No come? Porco il lama femmina Ma calla io lo sapevo Lo sapevo 20-0 Col vesper Ragazzi andiamoci a pia I tumori I tumori Ma quelli seria Porco d'incio Ma perché non mori? Porco due E vabbè Amma Trump Ma quello è volato di sotto? Erano bellissimi Sì 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 Mori idiota Ah quindi non so io che mi sono sbagliato Regà ma che per caso stanno su A? No Pare che stanno su A Ciao Io scappo Ma perché non mi ha segnalato? Cioè ci chiedo è finito nel momento in cui stavo lì Guarda che succede sempre così Che finisce proprio nel momento in cui stavo là così Sì Centromappa 39 Gunstrick Col cazzo di coso